E' stato rinviato l'incontro con l'assessore regionale Marielle Pollito che avrebbe martedì avuto come oggetto l'avvertenza del sindacato che riguarda i lavoratori dell'IPAB di Viaturati. In realtà un errore di forma che era scaturito in un grave incidente diplomatico non vedeva in indirizzo tre sigle sindacali alla convocazione del tavolo alla regione, a Palermo, la Cigelle, la Cisle e la Will, che con una nota alquanto piccata e immacchinata avevano sottolineato la gravità della mancata convocazione. I sindacati da tempo chiedono di essere sentiti per proporre alcune soluzioni che potrebbero, a dir loro, come si legge nella nota, diventare uno strumento per sanare la problematica. Intanto interviene il sindaco che si era fatto dopo il tavolo di rafferdamento, portavoce dell'incontro con l'assessore Ippolito. L'assessore regionale Magliella Ippolito ha confermato la volontà di affrontare la problematica a fine di ritrovare le possibili soluzioni ad una situazione di incertezza che si protai da molto, molto tempo, così ha scritto in una nota Giovanni Ruvolo. Ho molto apprezzato la sensibilità dell'assessore su una questione di necessità di un intervento articolato rispetto a un problema compresso. Dunque il rindio del tavolo consenterà il coinvolgimento di tutte le sigle sindacali.